Combattere la piaga dell'usura, fenomeno sociale, ad oggi ancora vivo e radicato del territorio, con una missione dire basta, è quanto discusso in una tavola rotonda organizzata dal Rotary Club di Trani, in una serata in cui hanno preso parte ospiti e relatori illustri, un'occasione per presentare il libro Il riscatto fuori dal tunnel dell'usura, scritto dalla giornalista e scrittrice Michela di Trani. Tra i relatori di assoluta rilevanza era presente Monsignor Alberto D'Urso, presidente della Consulta Nazionale Antiusura, da 25 anni impegnato nel contrasto a tale piaga. Combattere l'usura si può partendo dalle persone umane e con strumenti ben precisi. Cerchiamo noi di trasformare un debito usuraio in debito bancario, cioè secondo le possibilità oggettive economiche di una persona, di una famiglia, di un'azienda. Quindi ci vogliono persone non soltanto umane, innanzitutto umane. Al centro dell'economia c'è la persona e il profitto in funzione della persona e non la persona in funzione del profitto. Cerchiamo di promuovere una cultura diversa, un'economia diversa, un'economia che sia, come diceva Papa Papa Francesco, un'economia di comunione. La storia di Riccardo, protagonista del libro Il riscatto, potrebbe essere quella di chiunque. Vittime giornaliere silenziose di una vera e propria trappola. Il finale positivo del racconto di Michela Di Trani vuole lanciare un messaggio ben preciso dal tunnel dell'usura. Esiste via d'uscita? La storia di un giovane, una persona comune che si ritrova nella trappola dell'usura, una situazione più grande di lui, una situazione che aveva sottovalutato, ma poi ad un certo punto riesce a capire dove appunto era finito, cioè nella trappola dell'usura, perché non sempre è possibile intercettarla. Riesce a trovare la via per uscirne e la denuncia. È importante denunciare perché poi accanto alla denuncia ci sono anche tante associazioni che tramite il volontariato sostengono le famiglie nella vittima. Il Rotary Club Di Trani conferma la sua presenza sul territorio trattando temi di stretta attualità, partendo soprattutto dalle problematiche sociali. La serata vissuta all'interno della sala Ronchi della biblioteca comunale nel chiaro segno. L'usura è un problema molto particolare. Bisogna tenere presente che chi è vittima dell'usura molto raramente svela la sua situazione. La tiene nascosta, in parte forse perché si vergogna e in parte per timore di conseguenze. Quindi sottolineare il problema dell'usura, in particolare con il taglio del smettere di essere vittima dell'usura è molto importante.